Lavoro straordinario per i tecnici del Consorzio Bonifica Valdichiana dopo l'uragano del primo pomeriggio di lunedì 29 luglio che ha lasciato il segno anche sul reticolo idraulico. Di fronte a questo stato di emergenza che si è venuto a creare, il Consorzio Bonifica Valdichiana Retina, precisa il commissario straordinario Paolo Tamburini, ha allestito una task force coordinata dagli ingegneri del servizio tecnico che sta facendo un monitoraggio della situazione e contestualmente sta attivando interventi di somma urgenza. In particolare sono concentrati principalmente nelle zone più colpite a partire dalla Valdichiana Retina fino al reticolo limitrofo alla città di Arezzo e agli stessi fiumi che attraversano la città come il Castro e il Vingone. Rilievi e sopralluoghi sono stati fatti dai tecnici anche nei corsi d'acqua della frazione di Rigutino, Policiano, Frassieneto, Alberoro, Pieve al Toppo, San Zeno e Bagnoro dove sono già stati progettati e attivati gli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino. Particolarmente importante in questa fase il contributo da parte dei cittadini nel segnalare al servizio tecnico del Consorzio eventuali abbattimenti o sradicamenti di piante che possono compromettere la funzionalità dei fiumi e dei torrenti. Si può telefonare allo 0575 35 50 30 o mandare un'email a tecnico-cbv-valdichiana-retina.it